Abbiamo con noi il prefetto De Miro di Reggio Emilia, il prefetto Fattasi, nonché capo del CASGO e dell'ufficio legislativo del Ministero dell'Interno. Abbiamo anche, sarà per arrivare un magistrato del Tarpalermo, il giudice Turumello, abbiamo il Vice Ministro dell'Interno, l'architetto Bubbico, sulla mia sinistra e poi anche verrà in conclusione il Ministro Orlando. Se vi disturbiamo in fondo, vedete Costantino Visconti, però io, siccome presiedo io, vendicherò tutti gli altri, quindi gli toglierò la parola a ogni piesso spinto, qualora lui volesse nuovamente. E allora io farò una breve introduzione per non togliere troppo spazio ai relatori. Prima di entrare più sull'argomento, alla luce anche delle cose che sono state dette durante la giornata, mi scappa una battuta sui beni confiscati. Non resisto, dalla... e cioè questa disciplina sull'agenzia lascia molto a desiderare e questo, se volete, è anche il frutto del fatto che probabilmente le riforme antimafia sono state forse troppo oggetto di interessi politici, mediatici. Per cui sembra che l'andare avanti sia di per sé un fatto positivo, ma in realtà magari poi le cose non sono ben pensate. Ora, sull'agenzia, mi limito a fare soltanto queste due battute. Una, ne ho già scritto, a me mi pare un po' mostruosa questa sovrapposizione che c'è nel codice tra amministrazione e giurisdizione. Cioè il fatto che l'agenzia possa incidere nel potere giurisdizionale, così come è previsto nel codice, mi sembra che sia di dubbia costituzionalità. Ma vorrei dire anche un'altra cosa. Non so esattamente quali saranno i contenuti di queste proposte di riforma, anche cui accennava oggi la Presidente Binni. È chiaro però che si tende all'idea, diciamo, di rafforzare la componente manageriale dell'agenzia. Bene, io su questo sono d'accordo, però con tutta sincerità a me non piace che questa agenzia sia fatta da prefetti o magistrati. A me questa situazione di sovrapposizione di ruoli per cui prefetti e magistrati debbano pure occuparsi della gestione di genti patrimonio non mi piace. Ognuno faccia il suo mestiere, per carità, dato che si tratta di beni particolari, ci vorrà sempre un occhio, bisognerà sempre dare un occhio, giusto? Ma questo lo si faccia ab esterno. Se si vuole rendere realmente produttiva la gestione di questi beni, lo facciano dei manager, con la loro responsabilità gestionale, pure e semplice, senza prefetti e magistrati in mezzo ai piedi. I prefetti e i magistrati devono fare il loro mestiere. Perché, parliamoci chiaro, queste cose non si scherzano. A me già mi intimorisce l'idea che un cittadino possa anche soltanto ipotizzare che i professionisti dell'antimafia di cui parlava Sciascia siano diventati anche una specie di business dell'antimafia. A me solo che un cittadino possa pensare a qualcosa di questo genere, mi atterrisce. Che i prefetti e i magistrati continuino a fare il loro lavoro fondamentale, specifico. Se no, francamente, se il costo di tentare, che è anche un po' velleitario, perché uno Stato che manco si vida a gestire le cose ordinarie garantisce l'azienda ex-mafiosa, i lavoratori, non si sa più che cosa pure deve fare quel sciocciato. Ma al di là di questo un po' velleitarismo, si vuole tentare? Bene, ma a condizione di separare, ripeto, i ruoli? Perché altrimenti, francamente, che vadano al macero i beni antimafia? Parliamoci. Se il costo deve essere, che io devo dubitare, del fatto che i prefetti e i magistrati che hanno un compito delicatissimo siano in qualche misura sviati, allora io non mi interessa neanche più niente di questi beni antimafia. Il problema è che lo Stato deve fare cassa, che siamo a questa volgarità, che siccome c'è il debito pubblico dobbiamo cercare di fare cassa pure i beni antimafia, ma che è questo che è stato serio? Se dobbiamo arrivare a questo tipo di ragionamento. Ma, scusate, ma proprio non resistevo a fare qualche battuta in questo senso. Ma andiamo più alla nostra tematica. La prevenzione amministrativa e in particolare la documentazione antimafia. Ora, intanto ringrazio il professor Fiandaca che intelligentemente ha incominciato a capire che anche la prevenzione antimafia è una parte importante dei rimedi predisposti dall'ordinamento per contrastare la criminalità organizzata. E in effetti è così, ormai, chissà, dopo, insomma, ormai diversi anni di esperienza, che anche la prevenzione antimafia amministrativa ha un peso rilevante nell'economia complessiva del sistema di prevenzione. Ora, ovviamente anche qui ci sono, diciamo, delle problematiche classiche su, diciamo, sulle garanzie, sullo stato di diritto, così come ci sono gli strumenti penali di prevenzione, ci sono anche per la prevenzione amministrativa. Anzi, per certi versi, per quanto possa apparire paradossale, lì siamo ancora più vicini al limite di tollerabilità dello stato di diritto, perché i presupposti delle informative prefettizie sono ancora più labili di quelle necessarie per le misure di prevenzione giurisdizionale. E, per carità, le misure di prevenzione giurisdizionale sono più invasive, ma anche quelle di prevenzione amministrativa non sono da poco, tutti sappiamo che se è un'impresa che vive con la committenza pubblica, se è colpita da un'interdittiva antimafia, può intonare il De Profundis. Ora, ovviamente qui ci vuole quindi una certa prudenza, ma questo lo dico anche dal punto di vista dell'istituzione, perché è chiaro che se noi mettiamo in mano delle autorità amministrative, innanzitutto in mano dei prefetti, degli strumenti inadeguati, perché magari troppo pretenziosi, che moltiplicano la possibilità di commettere degli errori, finiamo per incidere sulla legittimazione dell'azione dello Stato. Quindi bisogna avere una certa cautela, una certa prudenza, mentre questo incrementalismo della normativa antimafia di questi ultimi anni non mi pare che mostri questa prudenza. A me verrebbe di chiedere ai prefetti presenti, ma ditemi una cosa, ma aggiungono un'altra voce tra i soggetti che devono essere sottoposti al controllo antimafia, ma è una cosa fattibile. Ma i prefetti sono in grado di affrontare tutto questo carico di lavoro, perché, parliamoci cari, meglio fare poche cose bene che troppe cose male, specialmente in una materia così delicata. Vediamo, fatta questa domanda, così di molto sinteticamente, di offrire alcuni punti problematici, anche in una prospettiva ovviamente dei U recondendo. Anche se io ritengo che probabilmente tutti questi discorsi dovranno essere anche riaggiornati una volta che entrerà in funzione della banca dati, perché bisognerà capire poi, col concreto funzionamento della banca dati, che incidenza ci sarà sul funzionamento complessivo del sistema. Ma comunque già delle cose si possono evidenziare. Anzitutto il fatto che vi è stata sempre scarsa attenzione sulla prevenzione amministrativa, quasi come fosse una mera ancilla della prevenzione giuridizionale. E invece dobbiamo riaffermare il fatto che ormai è diventato uno dei pilastri, come qualcuno ha detto, dei rimedi preposti dall'ordinamento. Ora, questa ancora scarsa attenzione la si può vedere anche nel codice. Perché, vedete, di là così di una certa imperfezione, di una collazione troppo rapida di questo codice, con difetti di coordinamento, quella... Però io voglio fare più un'osservazione di carattere sistematico. Se il codice deve diventare centro di attrazione, di quella che sembra essere una nuova materia, nel senso trasversale, mi chiedo perché si occupa soltanto della documentazione amministrativa. Cioè, io mi sarei aspettato che nel capo, partero, non mi ricordo, in cui c'è scritto la documentazione amministrativa, e ci fosse scritto la prevenzione amministrativa antimale. Per carità, si potrebbe discutere se bisognava mettere tutto dentro, perché a volte può essere complicato, alcune cose certamente sì, non so, lo scioglimento degli enti locali, anche il sottosistema delle grandi opere. Ma, voglio dire, anche laddove si dovessero fare dei rimandi ad altre fonti, almeno il quadro, la cornice, in modo che il lettore del codice si trova da franti l'elenco completo di quale è l'insieme degli strumenti amministrativi di prevenzione antimafia. Secondo punto. il sottosistema delle grandi opere, approfitto ovviamente che qua c'è il prefetto Frattasi, e i protocolli di legalità. Ora, il prefetto Frattasi sa bene che io così ho fatto qualche critica sui protocolli di legalità, specialmente per la problematica della filiera. cioè, nel momento in cui si decide di configurare degli adempimenti collaborativi in capo a un privato, cioè al contraente generale, bene, questi adempimenti devono essere tipizzati. Non è tollerabile che rimangano così rimessi, non so, al paternalismo del singolo prefetto. non è tollerabile. E siccome purtroppo questa nozione di filiera è indeterminata, fino a dove arriva? Fino alla trame d'Eva? Quindi non si capisce. Questo non è tollerabile. Ma a parte questa considerazione, ne vorrei fare anche un'altra. Il codice segna in materia di documentazione antimafia un momento di rilegificazione. Voi sapete che di rilegificazione, come sapete con la legge Bassanini, ci fu una rimessione alla fonte regolamentale e fu emanato il DPR 252 del 988. Invece il codice rimette tutto a livello di fonte primaria. Per carità ci sono dei rimandi alcuni regolamenti, però il cuore della disciplina è riportato alla fonte primaria. Scelta molto condivisibile perché io credo che siccome questa è una materia delicata di contemperamento, di bilanciamento fra voli costituzionali, che la sede primaria sia quella legislativa mi pare corretto. E proprio su questo mi permetto di fare un'osservazione sul sottosistema delle grandi opere. Noi sappiamo che questo è stato un terreno di sperimentazione straordinaria con risultati importanti, è diventato una sorta di laboratorio normativo, tanto che le soluzioni realizzate in quella sede addirittura poi sono diventate norme generali, cioè al di là del settore specifico dei grandi appalti. Però io credo che fatta questa esperienza sia forse venuto il momento un po' di serrare le fila, perché l'impressione che io ho adesso anche con tutti questi protocolli legalità che vanno spuntando anche di recente il Ministero dell'Interno con la Confindustria, Io ho l'impressione che non sia più sostenibile questo doppio canale, cioè il canale ormai tendenzialmente legificato nel codice è ancora questo canale che così sembra un po' libero. Anche perché, e lì voglio dire faccio anche una critica ai protocolli di legalità, anche perché quando parliamo di informativa e prefettizia stiamo parlando di poteri pubblici che devono essere sottoposti al principio di legalità e quest'idea che attraverso questa apparente consensualità dei protocolli di legalità si costituiscano dei poteri pubblici ulteriori, a me non mi pare molto corretto. Quindi, dato che, fermo restando il valore straordinario dell'esperienza consumata nel caso, adesso credo che sia il momento di ricondurre il tutto al piano proprio del principio di legalità. E non più di questo, sembra che c'è un terreno franco dove si vanno facendo protocolli di legalità, tant'è vero che la giustizia, la giustizia amministrativa ha cominciato a dare qualche bacchettata. Perché, per esempio, quando i protocolli di legalità prevedevano che le informative atipiche comportavano un automatismo interdittivo, diversi dici amministrativi hanno detto no signori, questo non è possibile, perché la figura è tipizzata dalla legge. Non può un protocollo, cioè uno strumento convenzionale, modificare la disciplina legislativa della figura come tipizzata dall'ordinamento. Sì, ma tu non ti devi mischiare perché non hai diritto di parole. Sinteticamente, due punti a base, sono finiti. Sinteticamente due punti. Un primo, ci sono prospettive di riforme in che direzione ci si muove? Uno, rafforzamento delle garanzie a livello procedimentale. Si può costruire un contraddittorio sui procedimenti prefettizi? La giustizia amministrativa da sempre dice no perché sono procedimenti ispirati a un principio di celerità e riservatezza. Io credo che questo sia qualcosa di superabile. Del resto la stessa legge in materia di accesso prefettizia ai cantieri ci dice ove è utile. Quindi non c'è un ostacolo di principio. Peraltro la riservatezza è anche relativa. Sappiate che ormai si può dire che non c'è giudizio cautelare in sede di impugnazione di fronte ai tarre delle informative e prefettizie in cui i tarre non ordinano all'amministrazione prefettizia la produzione degli atti che sono richiamati nell'informativa. Quindi la riservatezza è stata ormai una breccia importante da parte del giudizio amministrativo. Casomai il problema può essere forse la celerità, soprattutto laddove si raccorda con i procedimenti di evidenza pubblica, ma là forse basterebbe un momento finalmente di maggior coordinamento fra il codice degli appalti e la normativa, i procedimenti di protettizia antimafia. Non vi parlo della giurisdizione, poi c'è il problema della comprensa territoriale che spero il giudice Turumello affronterà. Poi c'è l'altro punto, vado dritto, e vado alle proposte della Commissione Fiandaca. La Commissione Fiandaca cerca di rafforzare il contraddittorio, leva ove utile, quindi il contraddittorio non è più rimesso alla pura discrezionalità dell'autorità prefettizia, questo è l'effetto della caduta di quell'inciso. Ma poi questa proposta ha un qualcosa di importante e di innovativo. Il punto è questo. Secondo me per quanto si possa incidere a monte sulle garanzie, contraddittorio, cercare di tipizzare un po' più i presupposti dell'informativo, più di tanto non si può fare perché sono i caratteri stessi di queste fattispecie che sfuggono a una tipizzazione troppo. Però proprio per questo appare giustificato il rafforzamento di strumenti di intervento a posteriore, dopo che un'impresa subisce l'informativa prefettizia. Perché là, parliamoci chiaro, là c'è un fatto odioso che urta il senso di giustizia. Perché quando c'è un, penso, vedremo il prefetto di Reggio Emilia a imprenditori nordici, quando c'è un'impresa, la quale, il fatto di una persona per bene, la quale scopre un giorno, inconsapevolmente, di avere un'infiltrazione non dell'acqua, un'infiltrazione mafiosa, è possibile, certo, certo che è possibile, e lo so, ma questo è possibile, certo che è possibile, in una grande azienda certo che è possibile. Ora, se accade questo, e quindi questo signore è già vittima di avere subito un'infiltrazione mafiosa, e poi subisce una seconda ingiustizia da parte dello Stato, lo Stato gli fa l'informativa e lui può intonare il De Profundis. E allora è possibile che lo Stato, diciamo, non debba quantomeno cercare di risolvere questa situazione, di evitare questa doppia ingiustizia. E lì che cosa fa la proposta che è andata? Da un lato cerca di valorizzare l'aggiornamento, anche configurando un aggiornamento d'ufficio. Non, quindi, l'incubo del cosiddetto ergassolo imprenditoriale. Si fa un'informativa con quattro elementi e poi non ne sa più nessuno niente. No, lo Stato deve tornare a verificare. D'ufficio. Secondo punto. Quello di usare questi strumenti di controllo giudiziario, altri hanno parlato del trust, penso ad un articolo di Galasso, insomma, vari strumenti, in modo tale che questa impresa, in qualche modo controllata, possa affrancarsi dall'effetto interdittivo. E in questo mi chiedo, e concludo, do la parola ai relatori, mi chiedo, ma in termini anche di analisi costi-benefici, ma se un mafioso viene a sapere che in qualche modo quell'impresa è messa sotto il riflettore, per carità è una misura più o meno rilevante, c'è da pensare che se ne stia alla larga? Almeno. Sembra ragionevole pensare questo. Certo, per carità, i mafiosi ormai sono diventati l'astuzia nei prestanomi, nei passaggi, per cui ci potrà essere anche un caso in cui riescono a mettere tutti in sacchetta, a prendere in giro tutti, ma statisticamente io credo che sia ragionevole pensare che nella stragrande maggioranza dei casi ciò allontanerà le imprese mafiosi e si potranno quindi salvare delle imprese che sono fondamentalmente sane. Scusate, se ho parlato troppo, ho parlato troppo a lui, figuriamoci. E do la parola... Prefetto, purtroppo, sì, sì, sì.